Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Mr. Mario e oggi siamo tornati in un nuovo vlog Vlog in cui dirò molte cose, annuncerò lo speciale, aia, 4000 visualizzazioni E' un passato un giorno, dallo scorso, sono passati due o tre giorni, uno o due giorni Dal video in cui ho aperto il pacchetto di carte Pokémon, ho trovato Gesù lì dentro Comunque, quel video non ha raggiunto i 10 mi piace, mi dispiace perché avevo in mente uno speciale, una roba epica Ma farò gli speciali di sempre Prima di tutto ci tenevo a ringraziarvi, grande contributo per una cosa che sto per mostrarvi Vi ringrazio per le 1300 visualizzazioni nel video dello spacchettamento dei Megapops E' quasi la metà delle mie intere visualizzazioni sul canale, non ho mai fatto un video che abbia avuto così tante visualizzazioni E così tanti mi piace, 22 ragazzi Sorvogliamo questo, ragazzi Per le mie 4000 visualizzazioni, anche se non siamo proprio a 4000, siamo a 3988 Strano perché di solito quelli di Youtube sono fiscalissimi Tipo metti un millisecondo di musica non autorizzata, ti arrestano per copyright Però vabbè, mi hanno inviato stamattina Ho trovato questo nella casa della posta Che è davvero epico Cioè ragazzi Hanno incaricato uno Che non mi ricordo il nome adesso C'è scritto qua Ma lo sapete le firme del Eccolo qua Lo sapete ma le firme dei pittori sono sempre impossibili da capire Te lo deve dire qualcun altro che è quel pittore Se no non lo capisci E c'è scritta anche una dedica A Mr. Mario Channel per le sue 4000 visualizzazioni Allora È epico Voi vabbè lo vedete attraverso lo schermo Però è una cosa epico Allora se andate a vedere il video Mi pare che è il primo vlog Se andate a vedere nelle playlist il vlog Di Il primo vlog Dove c'è in copertina Ci sono io che faccio È tornato Cioè ha scritto Ecco Mi è stato detto Nella busta Che io giustamente ho buttato Che questa era stata presa Dalla copertina del primissimo vlog Questa ora la La incornicio direttamente sul muro Va a finire sta cosa E praticamente ragazzi Questo è tutto Tra poco A breve uscirà lo speciale 4000 visualizzazioni Anche se le stiamo E per arrivare Non ci siamo arrivati Però è Allora Scusate se sono stato inattivo In questi due giorni Però Ho avuto due giornate Molto movimentate Aia Comunque sono riuscito Lo stesso a caricare Anche se piccolo video Comunque Sorvoliamo Le belle cose di Youtube Andiamo a parlare Di serie Allora Riscaldamento Pronto Allora ragazzi In poche parole Allora Clash Royale E' finito Dream Defense E' una serie che va A rimpiazzare FIFA 14 Non Clash Royale Quindi Io stavo pensando Ad una serie Che rimpiazzi Clash Royale Però ragazzi Mi dovete aiutare Perché Sinceramente Si Cioè Non so proprio Che serie fare Non so che serie fare Quindi Non so proprio A chi chiedere A parte voi Solo voi Posso chiedere Perché voi Siete i miei iscritti Quindi voi A voi Piace un certo Contenuto Oppure Anziché Un altro Contenuto Robe varie Comunque A voi Lascio La scelta Sbizzarritevi Nei commenti Sia giochi per telefono Che giochi per computer Però ragazzi I giochi per computer Non possono essere FIFA 17 Perché Il mio computer E' un po' vecchiotto Si dell'anno E' si dell'anno Scorso Dell'anno scorso Però ha una RAM Troppo bassa Per FIFA 17 E non lo Non lo legge molto bene Quindi Sarebbe un casino Mende A brain crash Il computer E non giochi IOS Perché io L'Android Il Samsung Comunque A parte quello Vi consiglio Molto di più L'Android Anche se ragazzi Ho iniziato Geometry Dash Sclererò molto In questi mesi Però Ehm Comunque ragazzi Il mini Video Finisce qua In soli Quasi sei minuti Sono riuscito a dire Un botto di cose Comunque Tanta Questo Questa Disegno Resta comunque Il più bel disegno Che abbia mai visto Nella mia vita Oddio Va bene ragazzi Se vi è piaciuto Lasciate un like Qua sotto Iscrivetevi al mio E al canale Di Lucchino King E noi Ci vediamo Alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi